Dai, clicco X come se non ci fosse un domani Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di Dino Crisis 2 Allora, siamo al quarto episodio di Dino Crisis 2 Ci avviamo alla fase finale Abbiamo superato la metà, più o meno E l'ultima volta, Razz, mi è stato segnalato da un mio amico che si è guardato il video Che ho preso nel secondo video le Uzi per Regina E tutto il terzo video, però l'ho fatto senza usarle Quindi, gran sola questa, peccato Ora mi ritrovo qui con Dylan E francamente non ho benché mille idea di dove debba andare Quindi inizio a cercare la strada Non mi ricordo da dove sono arrivato la volta prima Niente, quindi non era qua Fanculo, dovevamo andare in quella fottuta porta che parla ogni volta che per sbaglio per me Ti devi rileggere tutto Posso prendere anche il cannone a onde Quindi dai, io me lo acchitto Non mi riusciranno mai a beccare Provate a prendermi E' un cazzo di... Di stronzo che gira con il fucile Fregati tutti Allora, torniamo qui Andiamo di qua Compriamo le munizioni fottutissime E andiamo di qua La porta che praticamente aveva prima aperto Regina passando dall'altra parte Mi pare, no? Quei cazzo La saliamo No No Ah Morite Bene, bene Spostati E dai, oh Ma è proprio tardo Quando si preme avanti Ovviamente passa come tipo un secondo Tra quando premi E quando lui inizia a corre Però se mi tiro un colpo adesso schiatto Quindi meglio curarsi Minchia Che ho scelto la coltellata al volo Non trappresa la coltellata però Vabbè Fottuti Allora Zona velenosa Però qui è dove praticamente abbiamo tolto Cose avvelenate con lanciafiamme No? Vabbè Eh dai Oh, lo sapevo Sgozzo Cazzo Ok Non mi dire che sei ancora vivo Muori Ancora Ma davvero Oh, cazzo Beccati entrambi Super shot Ok Allora Qui non siamo scesi praticamente Conduce in un'area infessa dal gas Ah, ok Non puoi procedere senza una maschera Ah, ok Ho capito Forse mi ricordo Devo tornare tutto indietro Dove praticamente regina Dove sta quella specie di allosauro Mi sa che si chiamava allosauro Oh, cazzo Morite in pace Dinosauri di merda Perfetto Perfetto Beccato Allora Attenzione Scena filmata Ok Ok Questi ovviamente esplodono Però sono veloci Muoiono subito Muoiono subito Ma sono rapidi Io neanche troppo subito Quello continua a muoversi Ma dai No, 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 no Staccatelo Staccatelo Perfetto Cioè Sono proprio stronzi Io corro Perché non sono affrontabili È bloccato elettronicamente È bloccato elettronicamente Che tu sia fottuto Sono finiti pure i colpi Ammaggio Mi sono incartato praticamente Proviamo a rientrare dentro a questo cazzo di centro di ricerca Perché è inutile Perché è inutile Sono entrato per niente Non è possibile Allora Allora Qua non c'è davvero un cazzo È bloccato elettronicamente Oggetti Cura Chiave Usa Goal Cioè Capito Qua se non usi le cose Non è che si apre in automatico Solo perché c'è la chiave Cioè Rischi di vagare Per ore In realtà Ce l'hai già lì Mi sono abituato alla comodità Dei videogiochi moderni Dove basta che tu l'oggetto Ce l'hai E clicchi E va liscio come l'olio Invece qua bisogna usare Quindi Al momento sono entrato E sono andato A sinistra Quindi Esploriamo un po' Senza perderci Non c'è nulla Non ci sono mostri Non c'è niente E ci sta Un vicolo cieco Quindi qua Abbiamo capito Che praticamente Non c'è un cazzo Un terminale Per aprire o chiudere E bloccare Ventilazione Vuoi utilizzarlo? Sì Non è vero Che non c'è un cazzo C'è questo Quindi l'ho chiuso Me lo ricorderò Poi Poi Andiamo questa volta Al nord Di qua Oh Qui c'è una porta Che possiamo aprire Noi Quindi Apriamola Non con X Che palle Ok Sala di ricerca Vediamo che cazzo Ci sta qua dentro Allora Un file Un file Ci dirà qualcosa Sicuramente Vabbè Questo file Parla praticamente Di questi mini dinosauri Che si chiamano compi Che a quanto pare Rubano cose La gente si è lamentata La gente si è lamentata Perché mancavano oggetti E cose del genere Allora Ok Sono troppo carico Carico come un asino Vediamo un po' Se posso Usare qualcosa Tipo un medikit medio Me lo spacco Inutilmente Per buttarlo E non lasciare Questa cosa qui Puoi prendere Medikit piccolo Ma va a fanculo Allora Chiudiamo C'è una gabbia Che si può aprire Anche Bocchi ventilazione Vuoi utilizzarlo Sì Poi qui C'è anche La gabbia è chiusa Con una chiave Per qualche motivo Al suo interno C'è un cucchiaino D'argento Vuoi aprire la gabbia Sì Prendi il cucchiaino C'è qualcosa Hai trovato un dinofile Ok E basta La puoi utilizzare Per catturare Piccoli animali Vabbè Cazzo me ne frega Andiamo di qua Altro condotto Di ventilazione Chiudiamo pure questo E poi Che ci sta qua Al termine Utilizzato Dal dottore Sembra sia alimentato Non è possibile Sapere le informazioni Contenga Fatto questo Quindi Non penso Ci sia altro Da Da svolgere In questo posto Un altro Un ulteriore condotto Chiudere il condotto Di ventilazione Devo utilizzarlo Sì Usciamo Succederà qualcosa Tipo scene filmate E cose del genere No Comunque Andiamo per di qua Allora Quel condotto È già chiuso Invece È bloccato elettronicamente E noi proviamo A usare la chiave Non cura Getti chiave Vai Ecco qua Ecco Questi sono i piccoli Dinosauri Che rubano cose Quella è mia Io ho aperto la gabbia La scheda è stata rubata La devi assolutamente recuperare Obiettivi a missione Aggiornati Io ho già chiuso Tutti gli impianti Ventilazioni Quindi adesso Lui non può scappare E Deve rimanere E rimane per forza Là dentro Credo Però la scheda è stata rubata Che il piccolo dinosauro Recupra i pezzi di cambio Della nave La pattuglia Aggiornati gli obiettivi Ok Quindi inseguiamo Questo stronzetto Eccolo Ti sparo Merda Dove cazzo sta? Ti devo acchiappare Stronzo Ti devo prendere Dai Clicco X Come se non ci fosse un domani Che sorpassato Stronzo Dove cazzo è? Merda Fottuto Bastardello Vuoi morire Fottuta merda Fottuto Come cazzo si prende? Cioè Lo sto spazientando Lo devo condurre in trappola Pezzo di merda Vieni qua Ah Forse Devo portarlo Nella gabbia Ecco Che cazzo devo fa' Quindi Devo aprire Soltanto La porta Quella dove stava la gabbia Quindi sopra L'unica che è chiusa Devo aprire Qua Se apro questa Chiusa all'altro lato Andiamo un attimo Qua Se io apro questa E lo faccio andare qui Qui è dove sta la gabbia Quindi apriamo questa porta Del cazzo qua Facciamoci entra Sta merda Di mini dinosauro Utilizzarlo Sì Torniamo di là Oh no Adesso si è riempito Gli sti stronzi Eccolo Devo tipo farcelo Entrare io Spingendolo Spingendogli La direzione Di là Devo condurre In trappola Ok C'è entrato Ora andiamo di qua Perfetto Ora lo devo spingere Verso la gabbia Praticamente Di qua Noi lo spingiamo Verso la gabbia Vai Entra in quella Fottuta gabbiettina Perfetto Ok Mi ha sborsato La chiave Ragazzi Ne ricordo Questa scena Rimasugli Della memoria Obiettivo primario Ispezione L'erario Non ancora esplorare Ti recuperare I pezzi di ricambio Della nave Di pattuglia Ok Allora Fatto questo Possiamo andare Proprio in quella Porta che stavamo Aprendo Prima che ci Fottesse la chiave Lo stronzetto Quindi Go Mamma mia Che palle Questi cosi Sono velocissimi Allora Oggetti Oggetti chiave Usa E andiamo Allora Chissà cosa c'è Vuoto Abbiamo Delle cose Abbiamo Questo affare Che hai preso Una batteria D'avviamento Ok Un pezzo Obiettivo di missione Aggiornati Riportare la batteria D'avviamento Alla nave di pattuglia Quindi solo qua Era il pezzo di ricambio Tutto quel casino Rotto Va bene Ci fidiamo Poi c'è un file Colpi un altro ragazzo Praticamente Qui si dà Qualche spiegazione Su chi siano Quei tizi con i dischi A quanto pare Che anche loro Sono venuti Da D'altri D'altra ere Sono tutti Giovani E ostili Sì infatti C'è anche la foto Ok Non si sa Altro Abbiamo Praticamente Preso tutto Possiamo tornare Alla nave Andiamo di qua Che palle Morite Morite in pace Ok Inizio a diventare Un abile Dinosauraro Andiamocene per di qua Una buona difesa Torniamo alla nave Ci mettiamo veramente Un attimo Attorno alla nave E spossati Stronzo Non so che Vi conneva fare Cioè l'emorragia Ma ti rendi conto Mamma mia Che salto Sincronizzato Allora Cura Perfetto Allora Ah no Qua era inutile Qua è chiuso È un vicolo cieco Mi sa Mi sa di sì Stavo per saltare La marda È un vicolo cieco Qui Che voi siate Maledetti È qua Ok Oggetti Chiave Usa Perfetto Devo sempre aprire tutto Con le chiavi Nessuna porta È aperta Allora I colpi Ce li dobbiamo fare Anche un attimo Abbassare Perché non li ho ricomprati Quindi Corriamo rapidamente Ma proprio tanto Ma proprio tanto Poi ci giriamo E li sciottiamo Spostati Fottetevi Mard E andiamocene Centro di ricerca Retro Andiamo di qua E dai Scendiamo Torna la nave Un attimo Spero Se mi ricordo Dove come ci si arriva Chi lo sa Vediamo Dinosauro di merda Scappiamo di qua Anzi lo facciamo sali sopra Facciamolo salire Dai sali Ok Hai avviato la procedura di salita Io intanto Già me ne sono andato Andiamo di qua Sai che è Beccati sto shot in faccia E ciao Ciao bello Anche se questo tipo Con il fucile fotonico Ragazzi Cioè adesso Mi ha rotto i coglioni Adesso prendo il cazzo Di fucile fotonico Usa E beccati Buuuu Buuuu Fottiti Marda Marda Fottiti Porca di quella troia Soccombi 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 Cazzo Soccombi Marda Anticipo Sto affaitato Sta diventato rosso Si sta alterando E' morto E beccati qua Mi ha dato 2500 pts Avevi proprio scassato la minchia Allora Armi Prima area Usa Vai Torniamo Con le robe normali Ci voleva Perché ovviamente Avanti e dietro Aveva stronseggiato abbastanza Per i miei gusti Poi una vita Passata Dentro quel recinto Ad aspettare me E' una vita inutile Di sofferenze Quindi Tutto vale Por le fine Andiamo per di qua Mi pare io sia arrivato Da qui Eh si Dobbiamo ripercorrere All'indietro Tutto quanto O no Vediamo Forse si Di qua Lì non si può scendere Senza la maschera Antigas Quindi andiamo Proprio rapidi Minchia Quanti ne sono Salta 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 che ti passa E Basta Vattene Ok Dovevo pure un attimo Far la finta Oh Vattene un po' di cash Mi hanno mai Meanche beccato Bei 2000 pts Sgobbo Mori 8 colpi Solo 8 colpi 7 Sposto Schivata Schivata Rischiva Schiva lo sgrotto E poi Boom Ciao Andiamo di qua Ok Siamo praticamente Dove eravamo Da dove siamo arrivati A questo punto Arrivo fino alla nave Perché Anzi o no Mi scorderò sicuramente Di essere arrivato Fin qui Quindi arrivo fino alla nave Torniamo ancora indietro Riusciamo della sera cinesca Dovremmo essere Relativamente vicini Relativamente vicini Mi ricordo anche Qual è la porta Quella che non tanto si vede Ah Qui ci siete ancora voi Quella specie di Nane rottoli Non hanno ancora Preso il sopravvento Su di voi Spadroneggendo Sull'area Vediamo Andiamo di qua Si salta salta Che non mi riprendi Scendo qua Quanto son lenti Ti cotto agli Scagazzelli Questi sono proprio Lumache Ciao No vabbè Stai talmente lontano Che non ho voglia Di perdere tempo Andiamo per di qua Un attimo Un attimo L'ho guardato Dile Mentre atterrava Il dinosauro Muori Anzi Non sei ancora morto Muori Io corro 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 Spostati Ok Un po' di qua Sicuro Vabbè Risaliamo Buona difesa Vanno giù Con mezza coltellata Far davvero male La macetata È il macete Boom Oh Che male Che male Ho sentita proprio La botta Adesso Andiamo a fanculo Ok Vai vai Ok Andate giù Tutti Qua Però non mi ha dato Una super mega combo Vabbè Faccio manovra Come una macchina Che parcheggia E andiamo a sentire Nord Giungla Dove sta quella Diamine di porta Che cazzo sta E qua Se non ci fosse Quel mezzo secondo Che Se stai fermo E inizi a camminare Mi piega Tipo un secondo A iniziare A correre Dai Vabbè Sottuti And go Eccola Questa Ce l'abbiamo fatta Ci siamo quasi Ci siamo quasi Oh cazzo Oh cazzo Di nuovo tu Di nuovo tu Eeeh Batto anche te Non lo so Vediamo Se battiamo anche lui 25 di 50 Esattamente 25 colpi Del cannone a onde Ragazzi Ti sfascio Dinosauro di merda Devi scappare Da me Devi scappare Oh 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 Prima non mi hai fatto Così male Però eh Vattene a cagare Di già No Non può essere Di già Prima ci ho messo Molti più colpi Avrò sparato più Alla minchia In giro Chi lo sa Va bene Rimettiamo il fuciletto Perché questa cosa Qui è proprio inutile Vai Cioè inutile Inutile per Per il raptor Vai a sinistra Dai che ci siamo Ecco la nave Ti ho riportato Per piena cazzo Di batteria S'ho dovuto andare Non si sa dove Uccidere 6.000 dinosauri Dopo il meteorite È passato Dylan Stingo Eh dai No Mai rotto Basta Cioè Di qua Che so che c'è la mia nave Tu stati là Ah Incazzatissimo Ok Eccoci qua Siamo alla nave Vado storto Vado storto La porta Qual è questa Ok Huh She's gone Uh yeah I can see that You know what else is weird I've checked the stats On all the residents And soldiers But I couldn't find Any profile Fitting her description It's like she doesn't exist Well I was thinking Maybe she's not One of the survivors At all What if those Helmet people Are from a completely Different time Than ours What Ah Never mind We found parts That might help Fix the ship But what matters Now Is we still Haven't found Any survivors Or helpful data So we must move on And search elsewhere This control panel Is programmed To search for the areas Where we can dock Use it Right Ok Obiettivi di missione Aggiornati Adatto a Regina La batteria Obiettivo primario Utilizzando la nave Di pattuglia Riparata Ispezione alle aree Non ancora esplorate Quindi Nel prossimo episodio Finiremo Questo gioco Mi vado a ricomprare Anche un pochettino Quello che mi serve Un mighty kit grande Ci sta tutto A sto punto A 5000 Mi prendo anche Questo coso inutile Muro di fuoco Ricarico Tutte quante le munizioni A tutte quante le armi Ovviamente Perché Se no la prossima volta Non me lo ricorderò Mai Quindi munizioni Top Tutto E quindi Anche per oggi Abbiamo finito Con Dino Crisis Ragazzi Il gioco davvero Fighissimo Mi piace tantissimo Vi invito a lasciare Un bel like Qui sotto Al video Un commento Fatemi sapere Anche voi Che cosa ne pensate Io vi saluto E ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Ciao